bene bene dove sono? come è che si faceva correre? ah scelta di qua, wow, gli X, tu hai il tuo gergo da, oh senti non è colpa mia si dirà una X-Force ah così si, oh così si guarda in basso, in giornale, è un porno? non lo so, ce l'ha scritto Maiko Girls, ma se era giapponese, Maiko Girls ce l'ha scritto, ma se era in giapponese, perché a te ti portano in posti bellissimi e me li portano a vincere, è bellissimo, guarda che anche prima c'eri stata, era la città di prima, se probabilmente il tempo era diverso, e non si vedeva pensavo fosse un uomo, un uomo altissimo, un uomo altissimo, un uomo altissimo, chi chiota ma che bel posto, oh, la, e la, la Keisha ti dispiace ma io non voglio vedere la Keisha ma io lo vengo a vedere io voglio esplorare, voglio andare in giro, mi guarda una montagna, o cos'è quel coso? ah, una faccia, sembra scuola al mondo, cadi in una piscina, cadi a pizzo è una faccia vera? farò vedere la realisticità della faccia? vabbè, non ci vado non andarci addosso no, voglio semplicemente vederla da davanti ecco la cosa c'è un naso lunghissimo, si vede già da qua ma è una scimmia è bellissimo, è bellissimo fammi vedere cosa... dove mi porti? facciola, 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 facciola facciola, e' un incubo di porto possibile, si ancora eccolo lì uh è qua che abbiamo trovato il sito nero, giusto? no perfetto, guarda l'altra parte oh un caffello è quello di Mario almeno credo che sia un caffello a me sembra un caffello non è che il caffello nella fantasia dei suoni proprio bellissimo sì, bellissimo allora in questo mondo io non ci sarei più di una notte ma io neanche due minuti eh? io neanche due minuti ma c'è niente la tua cartella oh, eccola quel sole è di nuovo l'ero? eh? si, è vero, c'è un sole verde favore oh, questi qua mi sono una fanfara io ci passo in mezzo siiii, suonate per me schiavi quelle frecce non sanno molto dove dove potermi come la sinistra e la destra e c'è la scritta amore hai detto che c'è la scritta amore a te? si io vado dentro il castello vedi ci sono dei tizi samurai ballerini samurai ballerini scusate signori mi sono perso mi potete indicare un pochino la strada? no, ti prego non mi venire incontro no, 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 no no, 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 no no, 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 no allora due troni la stella o la luna no, 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 no la luna vai sulla luna vai sulla luna e non ti fa andare dove sono fatti yeeey blu transizione blu molto bene si sento una bella musichetta ah si? oh no lì c'è un tizio almeno credo che si sento cos'è? ah io bello questo wow cos'è che cos'è sto suono? non lo so io vado dentro il dipinto ma no e adesso dove sono? cos'è quella roba da sotto? cos'è sto? non ne ho idea oh andiamoci dentro portami in qualche parte transizione bianca non si sa dove dove in un culo oh mio dio sei se mi risveglio in un culo oh mi muovo lì ma io non voglio la città oh senti io sono caduto da un grattacielo non rompermi i coglioni eh ma io non voglio la città la città è brutta è così è così buia teoricamente se in un sogno muori muori anche nella realtà ma questo avevo capito se è un sogno o è una droga tu serio? no non ne ho idea lsd significava tipo dream simulator qualcosa del genere no tipo simulator che cazzo succede? cosa succede? ti stai feriando? è finita la che giornata era questa? la sesta si no era la quinta ma che adesso si sta illuminando come non so cosa? che cosa si stava illuminando? la scritta di day ah si? si non l'ho neanche vista e infatti già l'inizio mi sembra che c'è sta musica? eh te l'ho detto è cambiato è cambiato qualcosa? oh come saliva? un po' scelta dai sediamo fammi salire poi sale a carponi oh cos'è qualcosa? è uno che si sta buttando uno spirito è uno spiritello? oh bene rosso rosso è male rosso è male sicuramente era meglio se non ci andavi a guardarlo sai nooo ero la zona con tutti i pavoni questo giusto? boh non sembra niente male come posto eccoli i pavoni pavone è bello no? non c'è andata dopo ma perchè ci sono già andato ah no tu non sei andato contro il pavone sei andato contro il pavone sei andato contro una scolora eh ecco il pavone cos'è sto rumore? mamma mia io sarò per un norma no neanch'io probabilmente però è che questo mondo poi è boh io sono malato si ma non fino a sto punto che cazzo? il treno! take me home I will love non credo ti riporti a casa qualcosa no scusate questa l'avevo visto prima non ci sono ancora andato più un giamatore immagini uno che si perde veramente lì in una fantasia così in un sogno eh che cerca di svegliarsi e si ritrova sempre qua ma magari la storia è tipo così complicata tipo hai il tito è in coma e ma è un'agoniaca si si è possibile sentite solo oh le canzoni queste canzoni non sono proprio il meglio da ascoltare cos'è la cometa? dove? a sinistra oh che bello sali ferma però bello sono statica non importa si lo so le le gli spondi in jpeg così sono al meglio eh sto muro non lo so sto muro così di mattoni però siamo in scozio che che perchè è in scozio? a buono lo so eeeh un tamburo gigante un tamburo oh ehi la di nuovo eh ci rincontriamo con il cappello non ho mai la tua fidanzata in realtà il tizio col cappello si ma è un uomo il gioco è solo la tua ma è che ne vuole è che ne so avrà cambiato senso entriamo nel taiko taiko in giapponese significa tamburo non sai ti ha portato fuori dove città lo fa? non ne ho idea ma questa canzone non promette nulla nulla di buono la barna la barna ah se? si oh per te ancora con la barna la nave non ci riandrà no no si si posso andarci ci ero già andato io prima vabbè ma che ci importa possiamo ritornare tu sei un ho visto guardalo 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 il tizio il tizio e adesso è scomparso secondo me sto facendo bene sta andando dalla parte giusta siamo in un polo con la o sbaglio? no è la zona di prima oh jacks jay andiamo dentro jay ah va bene chissà dove cazzo ci va michael jay ah bene oh no siamo ritornati qua ma jay non l'abbiamo mai incontrato noi magari è la colpa io vado di qua ah se? ed è colui che ci controlla sempre si col dipinto di prima con la e magari è la geisha si è vero eeeh adesso la cometa sembra uno spermatozoo qualcosa e guardalo è vero sembra un po' uno spermatozoo no no non voglio svegliarmi era così bello questo sogno c'era il tizio col cappello sei statico adesso si sono un po' statico forse ma se mi sto continuando a muovere sei statico staticamente tuo ah vuoi farlo fare a me? si start non ma 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 Grazie a tutti.